A voi tutti il più cordiale buongiorno, ben ritrovati cari telespettatori di Fano TV. Questa è la rassegna stampa delle 7.30 del mattino che come sempre va in diretta con le repliche che si susseguono fino alle 8.30, poi alle 9.10, alle 13.30. Poi rassegna stampa che chiaramente potrete trovare in qualsiasi momento anche sul nostro sito internet occhialanotizia.it. Allora, come sempre di consueto vediamo il santo di oggi. Oggi si parla in realtà e si celebra, si ricordano due sante. Siamo indietro nel tempo, siamo proprio agli inizi, siamo nel 203 circa. Pensate che Perpetua e Felicita. Allora, Perpetua era una patrizia di 22 anni, mentre Felicita era la sua schiava. Insieme ad altri quattro cristiani furono arrestati a Cartagine, nel Nord Africa, il 7 marzo del 203. Insieme a questi altri quattro furono gettati in pasto alle belve. Morirono tutti uniti nella fede naturalmente e oggi vengono ricordate Perpetua e Felicita come martiri. Il sole è sorto alle 6.35, tramonterà alle 18.04. Il tempo, vediamo il tempo per quanto riguarda la giornata di oggi e poi quella di domani. Oggi avremo un cielo nuvoloso con addensamenti nelle ore centrali della giornata. Pomeriggio con schiarite, nelle ore centrali della giornata avremo anche deboli precipitazioni sparse, soprattutto nell'entroterra. Il limite delle nevicate è attorno ai mille metri. Per la giornata di domani invece il tempo migliore, lo vedete con il sole che torna a fare capolino dietro le nuvole. Ancora un po' di instabilità, ma il fine settimana comunque sarà buono. I giornali, la cronaca in apertura, il Corriere Adriatico, il dramma in casa. Muore una giovane mamma, la donna si è impiccata all'asta della doccia, l'ha ritrovata il compagno che è già stato sentito dai carabinieri. È accaduto ieri mattina nella zona del Porto, in via dello Squero. La donna di 40 anni, Eva Minardi, era nell'abitazione del compagno. Il magistrato ha disposto l'autozia nell'abitazione, nessun biglietto che possa spiegare il gesto. Chiaramente di questa notizia ne parlano anche gli altri quotidiani. Sempre dal Corriere Adriatico, a centropagina, il sindaco Massimo Seri è andato a Bruxelles per un affano sempre più europea. Si è recato in questi giorni, insieme all'assessore Caterina Delbianco e ad un gruppo di giovani, per dare concretezza ad una serie di progetti che possono usufruire di finanziamenti europei. Per la festa dell'8 marzo, giornata in cui si celebra la donna, un incontro, una cerimonia e poi anche una cena. Verranno ricordati anche i 70 anni dal voto. Tutti sanno che le donne, non sempre nella storia, hanno potuto esprimersi liberamente. Anche con un voto politico. Lo fanno da 70 anni soltanto. Riflessioni sui cambiamenti al femminile. Il Soroptomist inaugurerà nei giardini di Sassonia Fano una statua bronzea della scultrice Marisa Lambertini. Mentre la cronaca che riguarda i ladri che continuamente vengono a visitare in città le case e non solo le case, a Belgatto questa volta sono entrati in una villa e sono stati messi in fuga da un vigilante. Il furto dunque è fallito. I malviventi erano già comunque entrati. E se un colpo è fallito a Pesaro c'è stato un faccia a faccia con quattro banditi minacciato con un cacciavite. Riesce a mettere in fuga la gang di ladri. Avevano già divelto la cassaforte. Moglie e marito stavano cenando nell'appartamento al primo piano quando hanno sentito strani rumori. Poi sotto, o meglio, nell'altra pagina del Corriere Adriatico, la pagina di Senigallia, la Pasqua, Pasqua un mini tutto esaurito a Senigallia. Alberghi pieni ma solo su 20, 80, solo 20 su 80 saranno aperti per evitare la stangata delle tasse. Anche i concessionari di spiaggia tardano ad aprire, a riaprire per pagare solo la rata semestrale dei rifiuti. Un'anziana, sempre signora Corinaldo, un'anziana indotta a firmare una polizza truffa. Sono entrati in casa con la scusa di controllare le bollette. Poi le hanno fatto credere che l'assicurazione era obbligatoria e lei ha purtroppo firmato. Andiamo adesso sul messaggero. Il messaggero, una rissa tra donne al ballo come in un ring, botte tra due cubane. È successo a Montecchio fuori da una discoteca. Una è stata portata all'ospedale, l'altra invece è stata denunciata. Sempre sul messaggero scopre i ladri in casa, aggredito con il cacciavite, paura, sabato sera in Viarecchi. Il proprietario sente dei rumori, sorprende dei malviventi che stavano aprendo la cassaforte. Lui racconta, ho temuto per l'incolumità della mia famiglia più che per me. In testa mi restano quegli occhi che mi fissano, perché è gente, secondo questa testimonianza, è gente pericolosa. L'altra pagina del Corriere, l'omicidio di Ismaele. Andiamo a Sant'Angelo in Vado. I due che sono in carcere, Igli e Mario, si ritroveranno in un faccia a faccia, uno di fronte all'altro, dopo mesi di carcere, per cristallizzare la loro verità prima del rinvio a giudizio. Da una parte c'è Igli Meita, reo confesso dell'omicidio di Ismaele Lulli, il 17enne di Sant'Angelo, invado sgozzato lo scorso luglio per gelosia dall'altro Mario Mema, accusato di concorso in omicidio. Poi vedete da soli in apertura la notizia, il dramma che ha colpito questa famiglia, la cui giovane mamma si è tolta la vita in casa, la donna è stata trovata dal compagno, shock e dolore a Fano, la donna si è impiccata in bagno, l'allarme è stata data ieri mattina, inutile ogni soccorso, è caduto nella zona del porto, i carabinieri hanno ascoltato l'uomo, in caserma, disposta l'autopsia. Chiudiamo con il resto del Carlino, esce dal ristorante, sviene e cade in una buca. È successo l'altra sera, intorno alle 11 di sera, nei pressi dell'hotel Fiera, che si trova vicino al casello autostradale di Pesaro. Quest'uomo è 59 anni e da quanto si è appreso un cliente del ristorante, che è uscito dopo cena per prendere una boccata d'aria, ma avrebbe avuto un mancamento, cadendo in una buca profonda, un metro, scavata per fissare dei pali che servono per sostenere dei carteri pubblicitari. Chiaramente poi dopo sono arrivati quelli del 118 e altri, che quindi insomma non sono passati inosservati. La storia, o meglio, unite nel dolore, si sono ritrovate queste due famiglie in un lungo abbraccio, tra l'altro, in una chiesa di Fermignano, dove si è celebrata una santa messa per ricordare le vittime della strada. Si sono incontrate chi? La mamma di queste due ragazzine di 6 e 13 anni, che sono morte poche settimane fa all'Agostina, in un tragico incidente stradale, e poi la mamma invece di Alessia, una tredicenne, Alessia Tagliolini, una tredicenne di Urbagna, che è stata investita a poche centinaia di metri dal luogo dell'incidente della famiglia Zanou, cioè dove c'è stato questo incidente terribile qualche settimana fa, si sono ritrovate unite in un unico abbraccio insieme. Vedete le vittime, appunto, queste due bambine e sotto Alessia, l'altra ragazza di 13 anni. I genitori erano appunto nella chiesa, nella chiesa, e lo racconta il resto del Carlino. Mentre il sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, ha le prese in questi giorni con la polemica per l'ordinanza che ha firmato, e che però non è piaciuta la curie di Pesaro. Non è piaciuta, tant'è che il giornale settimanale di Ocesano, il nuovo amico, ha chiesto di ritirare questa ordinanza firmata dal sindaco Ricci. Un'ordinanza che vieta l'accattonaggio, cioè di chiedere soldi in giro per le strade. L'ordinanza però, dice in questa intervista, Matteo Ricci non c'entra con la povertà, il Comune di Pesaro spende 30 milioni all'anno nel sociale e dunque replica così alla curia. Io non ritiro nessuna ordinanza. Lavoriamo a fianco della Caritas e delle associazioni cattoliche, sia laiche che cattoliche, ormai da tanti anni. In tv è stato raggiunto al telefono da Illuminati ieri mentre stava andando a Milano per partecipare a Canale 5 ad una trasmissione con Barbara D'Urso, tra l'altro con tanto di bagarre come è nello stile ormai delle trasmissioni televisive, di certe trasmissioni televisive. Insomma, e quindi c'è l'intervista che potrete leggere appunto su questa vicenda. Poi il giornale di Pesaro, trappola ZTL, 11 multa in 5 giorni, protesta un imprenditore, avevo il permesso ma era scaduto, l'ammontare delle sanzioni è di 1.051 euro, di cui 116 solo per le notifiche. Chiudiamo con lo sport, ieri il Fano in casa ha vinto 3 a 0 contro il San Nicolò Teramo, tremenda vendetta. Sivilla, Gucci, Ambrosini, il San Nicolò Annichilito, Festival delle Occasioni, Perigranata che c'entrano anche tre legni, i pali insomma. Poi invece il promo vis calcio spettacolo, la vis vince 4 a 2 in casa contro l'Avezzano. Il promo in che senso? Nel senso che siccome c'è stata la Coppa Davis fino a ieri è stato proiettato un filmato Pesaro città dello sport. Tra tutti gli sport che sono stati fatti vedere in questo filmato purtroppo non c'era il calcio, non c'era nulla che ricordasse o facesse vedere la vis Pesaro. E allora ecco qua che il promo, il promo se lo sono fatti da solo, il promo la vis se lo fa da sola, 4 gol all'Avezzano, terza vittoria di fila, sesta consecutiva in casa. E quindi rispondono così quelli della vis alle polemiche, alle critiche per questa mancanza. Noi ci fermiamo, la rassegna Occhio ai giornali è finita, vi ringrazio come sempre per averci seguito, per averci ascoltato, vi ricordo che stasera c'è il telegiornale alle 20 e 30 e il nostro sito internet occhioallanotizia.it, sempre aggiornato come sempre che vi dà la possibilità di avere sott'occhio sempre tutte le notizie dell'ultima ora. Buona giornata e a questa sera. Grazie a tutti.